Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Video veramente veramente rapidissimo soltanto per invitarvi alla serata che si terrà sul mio canale Viola giorno 30 di questo mese perché faremo una seratona opera omnia. Cominceremo con la reaction in live e il commento come sempre della live stream mensile che ovviamente effettua Square Enix per i contenuti che saranno presenti all'interno della versione global e poi successivamente ci sposteremo sulla versione JP perché uscirà in contemporanea Cloud of Darkness con la Divine di Brothers delle summon quindi le Divine summon di Brothers dove appunto avranno come protagonista l'arma burst e l'arma LD di Cloud of Darkness che ho intenzione di pullare e quindi di conseguenza succede che la pulliamo in live quindi vi aspetto ovviamente sul mio canale sempre il mio canale Viola non potrò fare il multi streaming come lo faccio solitamente dato che devo in un qualche modo fare una sorta di reaction a un contenuto del sito Viola non vorrei che appunto YouTube mi facesse ancora di più i capricci e mi limitasse ancora di più per cui dovrò necessariamente spostarmi solo ed esclusivamente sul sito Viola ovviamente le info sono tutte quante in descrizione vi aspetto a partire dalle 21 e 30 vi ringrazio sempre del supporto e per tutte le belle parole che mi scrivete sotto nei commenti e nelle live vi aspetto e quindi ci becchiamo lunedì bye bye